Allora, chi trova un amico, trova un tesoro? Non lo so. Allora, l'amante so, che facevo con lì? Allora, adesso partirà un mio video, va bene? Poi andiamo avanti. Ah, non sta bene? Salve amici fratelli della congrega, ma che ore sono? Mi stava sopendo, addormentando, e poi mi sono risvegliato, in questa vita ancora sorprendente, chissà seducente. Sarà una giornata mia festeggiante, mezzanotte e un quarto? Ah, se ne ascoltano tante, distronzate. Ma chi l'ha detto che due uomini non possono essere grandi amici e spassarsela alla grande in un gioco di complicità, dove io passo la palla a te e, malgrado entrambi si presume che possediamo le palle, noi raccontiamoci balle. Ci reggiamo, ecco, il gioco a vicenda. Se siete due amici di Vicenza, non lo so, in maniera vicentina. Non volevo dire un gioco vicendevole. Di reciproci scambi, io do a te e tu dai a me, ma non quello. Ora, sì, sono arrivato alla veneranda età di 42 anni. Trascorse, spesso, di trascorse, profondamente per incodici, in cui mi incubi, in cui vivo mi seppelli. Poi, non lo so, cosa accadde? Cadi e mi rialzai, ma la vita è questa e quindi... Oltre che gli amici servono. Bukowski scrisse, condiviso, quest'aforisma, ma è suo, perché poi su Facebook circolano anche, oltre che frasi fatte, frasi false attribuite erroneamente a poeti maledetti, no? Un'amicizia finisce quando scopri che eri solo tu l'amico. A proposito, Buffon, i miei buffoni, sta ancora con il l'area d'amico? Gioca ancora? Para cosa? Le parle? Allora, avete tante paranoie? Ecco, una panoramica sui migliori film sull'amicizia virile, non bile. No, no, io non voglio più attorniarmi di persone che pensano delle cose di una tristezza inaudita. Voglio risplendere, brindare, brindare, mangiare la torta. Ho torta? Basta. Con le torte in faccia? Oddio. 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 Serata languida, tendente al palbito, forse eburneo, funereo, cinereo, o ceruleo. Il cinema insegna il cinema docet, questa è la mia ennesima doccia fredda. su pigiama a righe, no, a quadri, quadri, ci sono i quadri, ci sono i geometri. No, dicevo, vedete che simmetrie, che forme geometriche, perfettamente intonate, alle mie vocali, intonazioni, e a quelle che sono le mie vocazioni, cioè darmi alla settima arte. Adesso con il passo, se la spasseremo, guarderemo grandi film. Allora, 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 nel giorno del mio compleanno vengo bombardato su Facebook da 5.000 messaggi, alcuni sono veri e altri da parte ruffiani che manco mi conoscono. Aguri, aguri, come state, famiglia? Giornate, diciamo, tormentate da impegni profondi, in cui sprofondo e in cui, diciamo, effondo, di fondo, diciamo, il mio impegno sto completando, revisionando Bologna Polari, io non voglio morire, stiamo, diciamo, complottando, no, congegnando, diciamo, mi sto consultando con la grafica, col mio correttore box, anche se c'è poco da revisionare, da ravvisare. Io quando scrivo e quando mi prodigo, diciamo, io sono il figlio del prodigo, anche prodigio fui, di solito sbaglio poco. Le persone, invece, sono infigarde. Dovete sapere che una brutta malattia sta prendendo piede, ma da tempo immemorabile, una malattia, se ne dire, atavica, a tavola, comunque mangiare alla torta, no, dicevo, perché l'amicizia viene considerato un sentimento così nobile, però anche così screditato, perché male lingue, e adesso vi leggerò un estratto inserito nel Genius Spot, sarei inserito questo link in descrizione, ecco, la gente sparla, non si può essere troppo amici, altrimenti qualcuno, ecco, potrebbe compiere dei riferimenti veramente tremendi. Il grande o piccolo Cina smettisce uno dei più infimi luoghi comuni, cioè quello secondo cui due uomini non possano saper usare il congiuntivo, no, essere, ecco, se no sono troppo congiunti, quindi unti e bisunti, forse gay presunti, ecco, possono essere soltanto grandi amici pur frequentandosi assiduamente, con assiduità, diciamo, perché qualche mala lingua, o mala femmina addirittura, potrebbe pensare male alludendo ad altro, ad altro. Basta davvero, basterebbero infatti questi film che vedrete scorrere più che altro, immagini tratte da questi film, ce ne sarebbero a bizzeffo una miriade, e queste coppie storiche, poi i body cup movie, per distruggere tali oscene chiacchiere da bare, queste retrive tristissime, abiette, dicerie figlie, delle peggiori menti malate più bigotte. Veramente, io non ci posso credere che nel 2021, se due maschi, diciamo così, si frequentano, vanno a festeggiare, che ne so, anche un compleanno, qualcuno potrebbe pensare male, ah, ma sai, quelli, ma quelli che, ma cosa state dicendo? Allora, vedrete scorrere le immagini, anzi, stanno già scorrendo, in un roso hotel, ma che c'è, e quelli che ti dicono, ti piace quel personaggio, Fox, un po' ti assomiglia, ma sarai storpio tu, ma guardati, ma guardati bene allo specchio. Ecco, Willem Dafoe che ci dà con, anzi, argento, comunque, Fox, tanto volpone, lui guarda, vabbè. Poi, William Hart, I'm a character of the smoke, in questa foto, in questa foto, stanno guardando delle foto, forse di donne, no, no, vabbè, non lo so. Gina Conal Pacino, grandissimo film, c'è la mia recensione su Daruma View Cinema, anche la mia video recensione, è una recensione chiesta in tempi, ecco, non sospetti, quando, diciamo, c'è una certa amicizia, tra me il fruscianton, che assomiglia un po' a Gene Ekman, no? Lui dice Gene, ah, Gene Gnocchi, comunque il finale è poco credibile. Spoiler, Pacino deluso da tutta una vita, riceve anche una notizia falsa, una fake news in merito al covid, no? Il figlio, la figlia è morta, schizofrenia irreversibile, che pare più che altro una lobotomia, la schizofrenia non è irreversibile, ecco, quindi è un errore, beh, era per creare, diciamo, proprio il melodramma. Oliver Hardy, Wind Talker, Nicholas Cage, John Boo, beh, altrimenti ci arrabbiamo, se oserete ancora fare delle cattive insinuazioni maligne, e poi se c'è un amico che crede al maligno, no, no, che crede che Dio non esista, gli dicono sei un satanista, siamo arrivati a questo, lo chiamavano Trinità, mi pare ovvio, Willem Dafoe con l'accappatoio, Walken guarda, Asia Argento forse guarda Walken, di sbieco guarda anche Willem Dafoe, che si copre, sempre lì, ha sempre le mani in quella zona lì, vabbè, vedete, e vabbè, finisce qua, è un messaggio che io lancio, perché veramente nel 2021, ecco, poi c'è il cyberbullismo, no, la suggestione, far credere alle persone delle cose false, cioè se sei una brava persona, fin troppo brava persona, o una persona libera, ti devi vergognare di vivere così, che ecco, appunto, scrivi libri, invece devi prostituire, perché altrimenti danno della prostituta, è paradossale, al sistema, abdicare, metterti, per l'appunto, a 90, ecco, e sottometterti a un lavoretto per la dignità sociale, così avrai amici falsi, falsi, dei coglioni, che ti leccheranno per l'appunto il culo, forse te lo metteranno anche in quel posto, ma non parliamo di rapporti omosessuali, e veramente, io sono sconvolto, quindi, queste persone si allontanassero da me, io non le voglio più vedere, altrimenti riceveranno da me pugni in faccia, come Gene Hackman, quando si incazza, quando picchiano al pacino, che è fragile, psicologicamente più debole di lui, perché basta, veramente, io voglio attorniarmi di persone positive, continuare nel mio percorso, anche in solitaria, poi con qualcuno, con qualcuna, ma non con i pezzi di merda, quindi questi pezzi di merda, ecco, per l'appunto, andassero a prenderselo nel culo, questa è la mia risposta definitiva, e qui finisce il video, buon compleanno, ma anche buon non compleanno, perché io sono il bianconiglio, sono il cavallobatto, Alice nel paese delle meraviglie, la vita è meravigliosa, non lo so, non lo so, ciao ciao!